Questa bella situazione, ma io comincio dalla giaculatoria che sto dicendo da non so quanti anni. La mia giaculatoria è che bisogna assolutamente ricomporre le sinistre plurali sulla base di un programma nuovo e bisogna federare un campo progressista con i cinque stelle. Questo è semplicemente quello che testardamente e battendo la stessa nota da quel D, noi articolo 1 diciamo. E noi articolo 1, una piccola forza, ma noi siamo nati per questo, per questa cosa qui, non per noi. Ma per dire, ragazzi, che se non si trova...